Un programma di educazione per le scienze economiche e sociali che arriva negli istituti secondari in questa occasione a Laurana Baldi a Durbino, occasione di confronto con protagonisti ed esperti della politica e dell'economia italiana. Cosa significa avere qui con gli studenti un esperto come Giovanni Tria? All'interno del progetto PESES che è stato contattato dalla mia professoressa veneziano abbiamo avuto la possibilità di avere questo personaggio che per noi è veramente eccellente. I ragazzi hanno bisogno di parlare di economia, di diritto, di capire che sono realtà a cui approcciarsi durante la propria storia. Per questo siamo molto contenti di averlo qui e anche per la sua visione pratica della realtà. Ci sono ragazzi dello scientifico e ci sono ragazzi delle scienze umane, alcuni fanno diritto economia, altri invece no. Ma l'approccio a queste discipline è tale che tutti possono capirci qualcosa. Parlare di economia fin dalla scuola è un tema importante che si ritrova poi anche nella vita. Appuntamenti come questo con esperti permettono ai ragazzi di toccare con mano quello che è questo settore. Sì perché altrimenti i ragazzi, insomma, sentendo un pochettino il peso della disciplina come disciplina anche d'esame, perché nel mio corso sarà la seconda prova scritta diritto ed economia, sono più, diciamo, indirizzati a prepararsi solo a livello didattico a non approfondire certi argomenti. Mentre invece è basilare, specialmente in un momento come questo, in un momento in cui l'economia è diventata quasi una disciplina familiare e che loro abbiano anche dei riferimenti più reali, insomma, più legati alla realtà che vivono. Si sono anche preparati delle domande da porgere oggi per proprio capire, proprio nel concreto, quelli che sono alcuni aspetti. Sì, anche perché tra il programma del quinto anno, io qui ho una quinta e una quarta, ci sono proprio gli argomenti della spesa pubblica, l'inflazione e la tassazione. E ovviamente loro vivono nelle realtà familiari, sentono i genitori che si lamentano, ah, ci sono aumentate ancora le tasse, come faremo? Spenderemo di meno di qua. Allora, questo meccanismo spiegato in maniera, diciamo, molto pratica, poi da un professore come Tria, che comunque sia è stato anche ministro dell'economia e delle finanze, per cui sa benissimo come si viene ripartita la spesa pubblica e quando e perché vengono aumentate le tasse, insomma, è un bel momento per loro. Sono molto curiosi, devo dire la verità, lo fanno con piacere, anche perché sanno che hanno un esame da affrontare. Si è parlato di scena politica, di economia italiana, temi importanti anche da ragazzi. Cosa significa parlare a questi giovani di temi così importanti? Beh, significa far capire, diciamo, come non tanto funziona solo l'economia, ma come funziona lo Stato. e far capire, poiché si parla sempre di spesa pubblica, sempre richieste, che la spesa pubblica viene pagata poi dai cittadini. Non c'è separazione, non c'è gratuità, mai. Bisogna decidere quanta spesa pubblica e che significa decidere quante tasse. Poi bisogna decidere se si spende più in un settore o per qualcosa, o si spende meno da altre parti, oppure aumentano le tasse. Per periodi limitati lo Stato può fare debiti, ma questi debiti hanno un onere, attualmente gli interessi che paga l'Italia sul proprio debito è molto superiore alla spesa totale dell'istruzione, sia secondaria fino a una complessa università. Quindi si tratta di fare queste scelte, far capire ai ragazzi che chi racconta che è possibile una spesa gratuita o a debito, beh, dice delle cose che non sono vere. Devono essere cittadini consapevoli. Quindi dei consigli, alcuni suggerimenti per questi ragazzi, anche per i ragazzi che non sono qua presenti, ma potranno sentire le sue parole. Ma suggerimenti, i ragazzi hanno un problema di studiare, intanto devono studiare, e poi usciranno dalla scuola secondaria e devono scegliere l'università. Di cercare di capire quali sono le proprie tendenze, di cercare di scegliere per fare le cose che loro vogliono fare per realizzare se stessi, e a volte senza ansia, perché possono fare una scelta oggi, dopo un po' cambiarla, e andare in altre direzioni. Perché un ragazzo che esce da un liceo, da un istituto tecnico, non sa cosa troverà nel mondo, anche perché il mondo cambia, e quindi non sta facendo una scelta che deve porre ansia. L'importante è che qualunque cosa che si mette a fare lo faccia seriamente, dopo che c'è tempo per cambiare. Un commento sulla situazione economica per quanto riguarda il nostro paese, anche in relazione con l'Europa? L'economia italiana, diciamo, non va tanto male, non va peggio delle altre economie europee, degli altri paesi europei, anzi, in certi aspetti va anche meglio, ma non va molto meglio. Ha dei problemi, come ha tutta l'Europa, di come stare nel mondo, nei mercati globali, di fronte a Stati Uniti, Cina e Asia. Io penso che in Italia, come tutta l'Europa, debba investire di più, in parte consumare di meno, ma non solo per fare la competizione con le altre nazioni, ma perché c'è un periodo di transizione ecologica, di cambiamento del mondo, per cui richiedono investimenti. Investire di più significa limitare da oggi i propri consumi e di stare meglio domani. Questa è la BC.